Sono andato indietro nel tempo quando i dinosauri non erano ancora confinati negli zoo... Ok, niente panico. Ricordati il consiglio di tuo padre nel giorno del tuo matrimonio. Se mai tu dovessi viaggiare indietro nel tempo, non calpestare niente, perché anche il benché minimo cambiamento può alterare il futuro in maniera irreversibile. Benissimo.